C'è già chi parla di rivedere questo aspetto della legge elettorale al Senato. Ne parliamo con l'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, senatore del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera onorevole. Una sua valutazione su quello che è accaduto ieri in aula, sul voto che ancora è in corso. Partiamo dalle quote rosa, cosiddette quote rosa. Qual è la sua posizione? Intanto mi piace di più chiamarle iniziativa per la parità di genere, perché sulle quote ha visto quanto hanno cercato di confondere le acque tanti. Quindi era un tentativo, secondo me, molto importante di poter stabilire la parità di genere anche nella legge elettorale relativa alle elezioni del Parlamento, perché ricordo che sui comuni la legge già lo prevede. La settimana prossima arriverà la norma sulla parità di genere, la voteremo, ce l'abbiamo in aula per quanto riguarda le elezioni europee. Quindi diciamo che sembra un po' strano che per le elezioni, che direi sono tra le più importanti, non ci debba essere prevista questa norma. Quindi diciamo, parità di genere, ieri grande delusione, grande delusione perché… Lei è tra le deputate che hanno lasciato l'aula? No, io sono al Senato, quindi da me arriverà prossimamente, ora dopo la settimana prossima, immagino dopo che se oggi verrà licenziata alla Camera. E quindi diciamo, ecco, io sono tra quelle che dall'esterno ha seguito con grande attenzione tutta la trafila di queste, anche un po' degli atti che si sono susseguiti durante le ore e a un certo punto avevo perfino pensato che potesse essere praticabile una risposta positiva nel momento in cui è stata data la libertà di coscienza da tutti i partiti. Quindi a quel punto anche uomini e donne di Forza Italia avrebbero potuto liberamente votare in una direzione piuttosto che in un'altra. Insomma, non c'era più la disciplina di partito che teneva, così come non c'era più all'interno del PD. Forse amminare la legge è stato però il voto segreto. Certamente, però appunto stavo per aggiungere, c'era il voto segreto e questo comunque era un grande rischio perché nel segreto dell'urna al solito si è consumata un'altra delle ferite nei confronti delle donne. Senatrice, oggi i giornali raccontano un po' la questione, ognuno dà la sua versione dei fatti, della storia. C'è chi dice che i 100 voti che sono venuti meno da parte del PD siano stati quelli dei cosiddetti Renziani. Questo perché il segretario Matteo Renzi ha a cuore più la tenuta dell'accordo con Silvio Berlusconi che non il consenso interno al suo partito o ancora il merito stesso della legge elettorale. Qual è la sua lettura? Lei concorda su questa analisi? No, non credo proprio perché devo dire che Renzi in tutta la sua vita politica, in tutti i momenti in cui ha avuto responsabilità fino ad arrivare adesso al governo del paese, ha sempre dato un grande peso alla presenza delle donne in tutti gli organismi, anche all'interno, oltre che nelle sue giunte, sia in provincia che in comune, anche all'interno delle nomine, quando faceva le nomine per quanto riguarda le società partecipate e quant'altro. Lei è stata assessore al Comune di Firenze? Io sono stata, sì, sono stata assessore al Comune di Firenze, una giunta che aveva più donne che uomini, quindi insomma con un'attenzione precisa, non era casuale, insomma. Era stata proprio una ricerca di competenze tra le donne perché questo è un, come dire, un marco. Perché allora Renzi ha ceduto a Forza Italia su questo punto? Insomma, molti sono delusi dal Premier. Eh ma sì, ma lui... Lei è delusa? Ma no, diciamo, sono delusa da Forza Italia. Io sono molto delusa da Forza Italia che ancora non ce la fa scrollarsi di dosso questa sua negatività nei confronti delle donne, insomma, non se ne può più. Quindi la colpa è di Forza Italia che ha condizionato Renzi? Ma no, ha condizionato. Renzi stava all'interno di un accordo, evidentemente non poteva unilateralmente rompere questo accordo. Diciamo che Forza Italia ha fatto capire a un certo punto che dando la libertà di coscienza potesse, di fatto ha in qualche modo dato l'impressione di voler cedere qualcosa consentendo a chi voleva di votare in un certo modo, certamente è stato un bluff perché di fatto non è successo questo. Per quanto riguarda il voto del Partito Democratico, certamente non escludo che ci possa essere stato anche qualcuno che abbia votato non considerando le esigenze delle donne, non considerando la battaglia che le donne avevano condotto in quei giorni. Purtroppo corre un filo, lo chiamiamo antifeminista, non direi che si tratti qui di femminismo o di antifeminismo, si tratta di considerazione dei diritti delle donne. Si deve pensare che le donne devono avere tutti i diritti e nessuno mi convincerà mai che senza una legge questi diritti comunque si affermano. Si affermano dentro il Partito Democratico perché noi siamo gli unici che per statuto abbiamo la parità di genere, ma non si affermano certamente negli altri partiti. Allora lei mi può chiedere, dice ma allora vabbè voi tanto ce l'avete la parità di genere. È un'affermazione di un principio, è un principio importante da cui non si può transigere. E poi io aggiungo anche un'altra cosa, posso se vuole. Voglio aggiungere un'altra cosa che mi sembra importante. Perché noi facciamo questa battaglia? Perché vogliamo tante donne dentro il Parlamento? Perché credo che la legislazione sulle donne, se ci sono tante donne, viene fatta meglio. Che contributo danno le donne? Ed hanno un contributo enorme su tutte le leggi sul lavoro, sulle leggi legate al welfare, sulle leggi legate alle competenze, sulle leggi legate al welfare complessivamente, quindi al sociale e a tutto ciò che riguarda anche la parte della sanità. L'ambiente, le donne sono molto attente all'ambiente e sono tra coloro che, proprio perché hanno una responsabilità che storicamente è maggiore nei confronti della famiglia, dei propri figli, hanno una grande attenzione alla sicurezza, alla salute. Quindi sono più sensibili su diversi punti. Su quasi tutto. Onorevole, c'è tra l'altro un'altra argomentazione a sostegno anche di questa tesi. La ricorda oggi la giurista Lorenza Carlassare su Repubblica che dice una legge che in qualche modo non garantisce la parità di genere, potrebbe essere incostituzionale, fa riferimento all'articolo 51 della Costituzione che quindi in qualche modo potrebbe essere chiamato in causa in questo caso. Però la stessa giurista in qualche modo critica tutti e tre gli emendamenti che ieri sera sono stati votati e parla piuttosto della necessità di una doppia preferenza per i capolista. Lei dice, soprattutto proprio perché l'Italicum avrà delle liste corte, i posti più importanti saranno chiaramente il primo, al massimo i primi due. Ecco, l'ipotesi di una doppia preferenza per i capolista però non è stata messa in campo per nulla. Invece appunto noi le dirò che qui al Senato dove riproporremo questo tema e dove abbiamo qualche speranza che possa essere anche approvato in quanto qui non c'è il voto segreto, non si può chiedere il voto segreto per materia elettorale. E quindi diciamo ciascuno avviso aperto dovrà votare e quindi poi dovrà anche giustificare o rendere conto della sua posizione. Quindi di sicuro noi non presenteremo gli emendamenti che sono stati bocciati alla Camera. Ne presenteremo uno che te racconto di quanto lei diceva adesso, io sono d'accordo, che te racconto oltre che di questo aspetto che lei proponeva anche dell'alternanza all'interno della lista, quindi del 50% di posti all'interno della lista. Quindi cercheremo, come sempre succede, di migliorare anche gli aspetti emendativi, cosa che il bicameralismo perfetto in questo momento in cui ancora c'è cerchiamo di utilizzarlo al meglio. Può aiutare in questa direzione. Senatrice Di Giorgio, un'ultima domanda. C'è chi dice che per Matteo Renzi il fatto di aver cercato un accordo, trovato un accordo e difese un accordo con Silvio Berlusconi possa essere stato piuttosto che un punto a suo favore, un autogol, guardando al futuro, guardando alle prossime politiche. Lei come la vede? No, io credo che per fare le riforme si debba fare l'accordo con tutto l'arco costituzionale, quindi lui ha cercato di farlo con chiunque ci stesse, Silvio Berlusconi c'è stato, Forza Italia c'è stato e quindi si è creata questa maggioranza solo per le riforme, solo per le riforme. Perché Forza Italia è all'opposizione su tutto il resto e lo fa vedere tutti i giorni. Quindi a me il fatto dell'opposizione morbida, tenera, questo mi turba molto poco, sono parole. Silvio Berlusconi e Forza Italia sono all'opposizione perché quando abbiamo votato la decadenza di Berlusconi hanno messo da parte qualsiasi senso di responsabilità nei confronti dell'Italia e hanno pensato di doversene andare dalla maggioranza. Legittimo, però questa è la storia, altrimenti poi ci dimentichiamo, Forza Italia è uscita da questo governo perché noi abbiamo votato al Senato per la decadenza di Silvio Berlusconi, punto. Quindi diciamo che la maggioranza è un'altra, la maggioranza è con gli altri partiti e noi faremo e domani si vedrà, domani noi faremo delle riforme, riforme quelle sul mercato del lavoro, metteremo le risorse sulle scuole, faremo tutto ciò, cercheremo di rilanciare l'economia e vediamo, Pado anche grande lavoro sta facendo insieme al Premier. Noi questo facciamo e lo facciamo senza Silvio Berlusconi, lo facciamo senza Silvio Berlusconi. Staremo a vedere intanto domani per chi ci ascolta, lo ricordiamo, Consiglio dei Ministri durante il quale il governo presenterà appunto il piano sul lavoro, il cosiddetto job sect, ma anche le misure a cui la senatrice Di Giorgi faceva accenno sul tema del fisco e della scuola del lavoro. Grazie all'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, senatrice del Partito Democratico. Buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.